Aldo Cazzullo Buongiorno a tutti, grazie Danco, grazie Rosangela, grazie Carlotta Eco, grazie signora Renate grazie alla nostra madrina, 104 anni, non perde un incontro, grazie signora e grazie a tutti quanti voi per essere qui così numerosi, devo farvi una confessione Alessandro Barbero sta benissimo, non è mai stato invitato al festival, era una trappola escogitata da Danco e da me per avere qua tutti i fan di Barbero che adesso si cuccano cazzulli no scherzo, allora Alessandro Barbero purtroppo non sta molto bene, si sono sentiti e mi ha caricato di salutarvi, vi do anche una notizia, domani sera la 7 in prima serata c'è uno speciale, un evento con Alessandro Barbero che girando per l'Italia in automobile racconta la differenza tra democrazia e dittatura attraverso il tempo, lo spazio, è un tema che mi sembra di attualità, vi invito a seguirlo e l'anno prossimo credo che riusciremo a fare questo dialogo. L'identità italiana è un tema su cui sia professor Barbero sia indegnamente io ci confrontiamo da sempre perché l'Italia è una nazione davvero speciale, non è nata dalla politica o dalla guerra, è nata dalla bellezza e dalla cultura, altre nazioni nobilissime sono nate dalla politica, dalla diplomazia, dalle armi, la Francia è nata da una guerra, una donna forte, Giovanna d'Arco, aiuta un re fragile a cacciare gli inglesi invasori e nasce la Francia. La Spagna è nata da un matrimonio dinastico, la regina di Castiglia sposa il re d'Aragona e nasce la Spagna, l'Inghilterra è nata da un divorzio, Enrico VIII si libera contemporaneamente della moglie e del papa e nasce la Spagna, l'Inghilterra. Invece l'Italia no, l'Italia è uno Stato molto giovane, ma quando l'Italia poco più di 160 anni fa diventa uno Stato in realtà esisteva già perché era nata dagli affreschi di Giotto e dai versi di Dante Alighieri. L'Italia è una nazione culturale prima ancora che politica e questo pur nei suoi errori, nei suoi crimini, in qualche modo anche Benito Mussolini lo aveva intuito. Quando Mussolini pensò di trincerarsi nel famoso ridotto della Valtellina, l'ultima fortezza assediata per combattere fino alla morte, farà invece un'altra fine, travestito da soldato tedesco, catturato, fucilato, appeso testa in giù. Ebbene Mussolini voleva portare con sé le ceneri di Dante, come a dire che l'identità italiana moriva con lui. Naturalmente non era così e infatti non è andata così, anche perché le ceneri di Dante non si trovavano. La storia del corpo di Dante è straordinaria. Dante muore a Ravenna, in esilio, ma i fiorentini quasi subito si rendono conto che si sono lasciati sfuggire il loro figlio più illustre, anche perché c'era stato il grande lavoro di Boccaccio. Boccaccio, come racconta bene Pupi Avati nel suo film, ha salvato Dante. Dante era stato condannato non soltanto a morte, ma anche la Damnazio Memorie. I conventi, che erano le biblioteche dell'epoca, non potevano tenere la Divina Commedia, perché nella Divina Commedia ci sono quattro papi all'inferno e due papi in purgatorio. La Chiesa aveva maledetto quel libro e invece Boccaccio lo salvò. Lo salvò perché cominciò a leggerlo in pubblico, cominciò con lui la grande tradizione di recitare in pubblico i versi di Dante, come poi hanno fatto Giorgio Albertazzi, Vittorio Gasman, Roberto Benigni, Carmelo Bene e anche Piero Pelù. E poi Boccaccio ha cremato la Commedia Divina e ha difeso Dante in tutti i modi, perché non tutti lo amavano. Ad esempio Petrarca non amava Dante. Sosteneva di non avere mai letto la Divina Commedia e di non averne neanche una copia in casa sua. E c'è una lettera bellissima di Petrarca che scrive a Boccaccio. Boccaccio gli ha chiesto ma perché non ti piace Dante? Come fa a non piacerti Dante? E Petrarca risponde io non ho mai letto la Divina Commedia perché se l'avessi letta avrei tentato di imitare Dante e Dante è troppo grande per essere imitato, ma se egli fosse vissuto nel mio tempo pochi amici avrebbe avuto più cari di me. In realtà secondo me Petrarca aveva letto e mandato a memoria Dante. Petrarca trova in Dante l'idea dell'Italia. Ai serva Italia di dolore ostello, nave senza nocchiere in gran tempesta, non donna di province ma bordello, non signora di territori ma prostituta in vendita al migliore offerente. Quando scoppia la guerra fratricida tra Genova e Venezia, la guerra di Chioggia, Petrarca scrive ai dogi di entrambe le città dicendo non fatevi la guerra perché Venezia e Genova sono i due occhi d'Italia, Genova guarda verso Occidente, Venezia verso Oriente, l'Italia ha bisogno di entrambi gli occhi. Quella lettera fu cestinata, i dogi non ne tennero alcun conto e Venezia e Genova arrivarono vicine e distruggersi l'un l'altra, eppure un seme era stato gettato. L'idea d'Italia era già nata grazie ai due grandi poeti, a Dante e a Petrarca. Anche Machiavelli non amava Dante, lo rimproverava di aver usato uno stile porco, di aver scritto le parolacce, però Dante voleva usare tutti gli stili, l'alto, il basso, l'irico, il comico, il grotesco, il sublime, perché voleva restituire tutte le sfaccettature dell'animo umano. Voi sapete che è un giudizio molto severo su Benito Mussolini, l'anno scorso con Moni Ovadia abbiamo fatto questo spettacolo teatrale che porteremo a Genova a gennaio che si chiama il Duce delinquente. Mussolini a volte si comporta in modo tecnicamente da delinquente, quando dopo la marcia su Roma prende il potere e quasi tutti, anche quelli che lo avevano avversato, anche Giolitti, anche De Gasperi, votano la fiducia al suo governo, tra i pochi e dirgli di no fin da subito fu un ambasciatore a Parigi, Carlo Sforza, che non era un bolshevico, era un aristocratico, il conte Sforza, però lui si dimette perché si rifiuta di rappresentare il capo di un governo che disprezza. Mussolini lo convoca, tenta in vano di fargli cambiare idea e poi lo congeda, lo minaccia con parole tecnicamente da delinquente. Gli dice ma lei non ha capito con chi ha a che fare, lei non ha capito che io posso farla mettere al muro con 12 pallottone nella schiena, così parlava il nuovo Presidente del Consiglio. Io credo che ci sia una cartina di tornasole che fa capire com'è un uomo ed è il modo in cui si comporta con le donne. Mussolini si è comportato malissimo con le donne italiane e anche con le donne della sua vita, con le donne che lo avevano amato. Nel suo diario lui si vanta di uno stupro, la presi lungo le scale e la fecimia. Lei piangeva, piagnucolava, diceva che le aveva rubato l'onore, ma di quale onore si parla? La donna a cui ruba l'onore si chiamava Virginia B. Quando invece vuole Rachele, Mussolini si presenta davanti al padre suo, Alessandro Mussolini, fabbro del paese, e alla mamma di Rachele, che erano amanti, papà di Mussolini e la mamma di Rachele, stringendo Rachele in un pugno e una pistola nell'altro e dicendo se non mi date Rachele qua ci sono sei colpi, il primo per lei e gli altri sono per voi. Stava minacciando di morte il suo stesso padre e la mamma della donna che voleva sposare. Nessuno osò correre il rischio e Benito sposa Rachele. Ma a Milano Benito ha un'altra donna, si chiama Ida, Ida Dalser. È bella, è trentina ed è ricca. Ha avuto successo, ha aperto il centro di igiene e bellezza orientale Mademoiselle Ida. Oggi diremmo un centro estetico. Ma lo vende, vende tutto quello che ha, anche le case e i gioielli, per finanziare l'ascesa politica dell'uomo che ama. Anche con i soldi di Ida, oltre che con quelli della Francia, Mussolini fonda il Popolo d'Italia, giornale che contribuisce a trascinare il paese nella fornace della grande guerra. Benito e Ida hanno un figlio, Mussolini lo riconosce, gli dà il suo nome, lo chiama come lui, Benito Albino, detto Benitino, e promette a Ida di sposarla. Ma non può, perché è già sposato con Rachele, ha già una figlia, Edda, ma Ida non lo sa. E quando lo scopre si arrabbia moltissimo e comincia giustamente a rivendicare i suoi diritti. Ma nel frattempo Mussolini è diventato il duce e può ordinare, levatemela di torno ed essere obbedito. Ida del Ser viene chiusa e fatta morire in manicomio e il piccolo Benitino continuava a dire, io sono il figlio del duce, vedete quel signore nel ritratto appeso la parete e mio padre, tra l'altro come sempre in questi casi gli assomigliava moltissimo, anche lui viene chiuso e anche lui viene fatto morire in manicomio nell'agosto 1942. Cioè Mussolini fece chiudere il manicomio e morire in modo atroce il suo stesso figlio e la donna che l'aveva messo al mondo. E il duce distrugge anche la donna che l'aveva creato, che l'aveva inventato, Margherita Sarfatti, ebrea veneziana, donna di grande intelligenza, primo grande critico d'arte donna nella storia europea, amica di Sironi, amica e anche amante di Boccioni. Margherita Sarfatti crea Mussolini, gli insegna tutto, gli insegna a stare a tavola, a guardare un quadro, lo introduce nel salotto di Anna Kulishoff e di Filippo Turati, i capi del Partito Socialista, nelle cui file Mussolini militava, lo aiuta a diventare direttore dell'Avanti, scrive anche la sua biografia Dux, che sarà un best seller tradotto in tutto il mondo. Ma Margherita Sarfatti era ebrea e non poteva tollerare che Mussolini si avvicinasse a un antisemita dichiarato come Hitler. Nel 1934 la Sarfatti va in America e viene ricevuta da Roosevelt, dal presidente degli Stati Uniti, alla Casa Bianca, che le affida un messaggio per il duce. Roosevelt dice alla Sarfatti, riferisca a Mussolini che l'America non è nemica, purché lui non si getti tra le braccia di Hitler. La Sarfatti torna in Italia, si fa ricevere da Mussolini, gli riferisce il messaggio e Mussolini scuote la testa e dice l'America non conta. Non aveva capito nulla. L'anno dopo Mussolini dichiara la guerra all'Etiopia, dal balcone, la Sarfatti nella folla che ascolta e scuote il capo, è disperata. Allora le chiedono donna Margherita pensa che noi perderemo questa guerra e lei dice peggio, la vinceremo e lui, Mussolini, perderà la testa. Quando poi Hitler nel 1938 viene a Roma a suggellare la sua alleanza con Mussolini, la famosa giornata particolare di Ettore Scola, allora la Sarfatti va al ricevimento al Quirinale, vede Hitler, capisce di aver davanti il diavolo e perde la testa, si ubriaca, prende un bicchiere da ogni vassoio che passa e il principe Umberto, che era un animo gentile, carica il suo autista di portarla a casa affinché una donna così importante, così geniale non dia spettacolo di sé in pubblico. La Sarfatti capisce che sta finendo tutto, scappa in esilio in Sud America, scriverà un altro libro intitolato My Fault, il mio errore, Mussolini, sua sorella Nella non riesce a fuggire e muore ad Auschwitz, come altre migliaia di ebrei italiani. Ma Mussolini non soltanto ha portato con sé la morte anche questa ragazza che si era invaghita di lui, Claretta Petacci. Mussolini finì per rompere anche con l'unica donna che forse aveva davvero amato, sua figlia Edda. Mussolini cede alle pressioni di Hitler e fa fucilarga Leazzo Ciano, il marito di Edda. Si erano sposati nel 1930 a Villa Torlonia, che era la casa lussuosa a Roma per cui Mussolini pagava una lira di affitto, aveva metodi persuasive per ottenere una riduzione sulla pigione e ci fu questo matrimonio curioso in cui gli sposi, anziché sotto una pioggia di riso, passarono sotto un arco composto dai pugnali ricurvi sguainati dalla guardia personale del Duce. Poi Edda salì su un'Alfa Romeo sportiva con Galeazzo seduto al fianco e andò via sgommando. Mussolini ebbe una crisi di gelosia, prese la moglie Rachele, la spinse a forza su un'altra auto e si gettò in seguimento. Per un po' Edda si divertì a seminare il padre e poi accostò e gli disse papà sei ridicolo e mangi solo polvere. Mussolini disse no guarda stavo giusto per tornare indietro, soltanto lei poteva trattarlo così. Eppure neanche lei riuscì a convincere Mussolini a non fare fucilare Ciano che era suo genero, che era il padre dei suoi nipoti e allora lei lo maledisce e afferma in faccia Mussolini se io posso perdonarti soltanto se scappi all'estero o ti togli la vita. Invece Mussolini non farà né una cosa né l'altra. Si metterà al servizio di Hitler e non è vero quello che a volte viene raccontato che Mussolini lo fa per temperare la rabbia tedesca. Ci sono episodi attestati, dimostrati in cui Mussolini si rivela più feroce dello stesso Hitler verso gli italiani. Quando i polacchi che combattevano con gli anglo-americani, i polacchi del generale Anders, sua figlia ora è l'ambasciatrice della Polonia in Italia, i polacchi prendono Monte Cassino ridotta purtroppo in macerie da bombardamenti americani, dando come scritto in una lapide bellissima nel cimitero polacco a Cassino, il corpo, l'Italia, l'anima a Dio e il cuore alla Polonia. A quel punto Roma diventa indifendibile e Hitler ordina che le truppe tedesche retrocedano fino sulla linea gotica. Invece Mussolini voleva difendere Roma casa per casa e si lamenta con Hitler, dice ma perché gli abitanti di Roma devono avere un trattamento migliore degli abitanti di Cassino che era stata distrutta? Quindi Mussolini era pronto a far distruggere la sua stessa capitale. Mussolini si comportò malissimo non soltanto con le donne della sua vita, fece soffrire tutte le donne italiane. C'era un tetto massimo di donne al lavoro nelle fabbriche e negli uffici del 10% e quindi una gigantesca quota azzurra riservata ai maschi del 90%. Alle donne fu proibito insegnare le materie scientifiche negli istituti tecnici e le materie letterarie nei licei. Mussolini mise fuori legge la professoressa di lettere, un'istituzione italiana. C'era la tassa sul celibato, chi non si sposava doveva pagare una tassa. C'era anche la tassa sui matrimoni infecondi, come se non poter avere un figlio fosse una colpa. Le tasse scolastiche erano più alte per le femmine che per i maschi, meno donne studiavano e meglio era. Le donne, diceva Mussolini, sono una parentesi gradevole nella vita dell'uomo, ma più l'uomo è virile, intelligente e meno bisogno ha delle donne. Le donne dovevano stare a casa a fare figli, eppure nonostante fosse introdotta anche la tassa sui cani da compagnia, si fecero meno figli di prima e si sono fatti più figli dopo il fascismo, perché le donne fanno più figli quando sono più libere di scegliere, quando sono autonome e non devono dipendere dai maschi. E tutto questo fu un passo indietro rispetto agli anni precedenti, perché gli anni della prima guerra mondiale segnano l'ingresso delle donne nella storia. Soltanto nel 1919 le donne possono avere la capacità giuridica, cioè possono concludere un contratto, aprire un'impresa. Prima la loro firma non valeva nulla, anche solo per vendere o comprare una casa, una donna doveva avere la firma del marito e del padre. E perché finalmente nel 1919 le donne possono fare impresa, possono essere autonome, libere? Perché c'era stata la grande guerra. E le donne italiane avevano dato un grande contributo alla sconfitta dell'Austria e la vittoria italiana. Le donne presero il posto degli uomini e dimostrarono di saper fare le stesse cose degli uomini, magari meglio di loro. Le donne resero il ritmo alla catena di montaggio, si tagliarono i capelli corti, molti morivano all'inizio perché le gonne lunghe restavano impigliate negli ingranaggi. Anche la moda cambia, sono gli anni di Coco Chanel. Addio cappelli più umati della belle époque, il barretto deve potersi piegare ed essere messo in tasca. Addio corsetti, corpetti. La donna deve spogliarsi e vestirsi da sola, viene inventato il reggiseno. Le donne imparano guidare l'automobile, cominciano a fumare, cominciano ad andare a bere un bicchiere con le compagne alla fine del turno. Quando si videro le prime donne postine, il Corriere della Sera scrisse che l'innata curiosità femminile avrebbe portato alla violazione della segretezza della corrispondenza. Si pensava le donne avrebbero letto le lettere per me di consegna. Quando ho detto questa cosa in Piemonte, a Borgo Manero, si è alzata una signora molto anziana, quasi anziana come la signora, a dire io ho fatto la postina tutta la vita, ma non ho mai aperto una lettera, però leggevo sempre le cartoline. Quando si videro le prime donne a guidare i tram, molti passeggeri uomini rifiutarono di salire nel timore di incidenti, che non ci furono a conferma del fatto che non è vero che le donne non sanno guidare. Le donne erano croce rossine, come Margherita Kaiser Parodi Orlando, unica donna sepolta re di Puglia tra 100.000 uomini, medaglia d'oro al valore militare per essere rimasta al suo posto, sotto un bombardamento nemico nell'ospedale da campo di Pieris in Friuli e morta nel 1918 di febbre spagnola. 450.000 morti, decisamente peggio del Covid, vennero introdotti i monatti, come nel tempo della peste manzoniana, pagati 15 lire per ogni corpo che recuperavano, mentre le portatrici della carnia erano pagate 4 lire per ogni viaggio che facevano lungo delle balze, che neanche i muli riuscivano a salire, con 40 chili di viveri e di munizioni nelle gerle. La nonna di Manuela di Centa, la campionessa olimpica di sci di fondo, era una di loro e diceva sempre alla nipote «non cambierei mai le mie medaglie con le tue». Ed era una di loro anche Maria Plosner Mentil, donna italiana della carnia friulana che fu uccisa da un cecchino austriaco e oggi una caserma degli alpini porta il suo nome, è l'unica caserma italiana dedicata a una donna. Mentre Luisa Zeni era una diciottenne di Trento che fu ingaggiata dagli italiani come spia e mandata in Austria. Le diedero il kit da spia come a James Bond prima delle missioni, una borsa con dentro una pistola, una boccetta di inchiostro simpatico per scrivere i messaggi, una boccetta di reagente per leggerli e un manuale per decifrarli. Il rischio era pazzesco e Luisa si presentò alla frontiera con l'Austria il 22 maggio 1915, due giorni prima dell'ingresso dell'Italia nella guerra e il funzionario sburgico la fermò, ma lei ebbe la prontezza di posare la borsa con il kit da spia sulla scrivania del doganiere che doveva interrogarla il quale non ebbe la prontezza di aprire la borsa e lasciò passare Luisa che da Innsbruck, quartiere generale degli austrieci, mandava agli italiani messaggi cifrati, si muove la cavalleria, stanno per attaccare, ci sono anche i tedeschi e quando fu scoperta riuscì a fuggire travestita da uomo. Victoria Sachs, ragazza austriaca, per non lasciare da solo il padre, si vestì da uomo, da soldato e fece tutta la grande guerra fino a quando non fu scoperta e decorata dall'imperatore. La maestra italiana Luisa Ciappi invece anche lei si presentò vestita da soldato ma fu subito beccata e rimandata a casa dai carabinieri. E poi le donne pagano sempre il prezzo delle guerre. Dopo Caporetto gli austriaci diventano padroni di un pezzo d'Italia e si comportano molto male con le donne. Ci furono molte violenze e nove mesi dopo Caporetto cominciarono a nascere i primi bambini e non si sapeva dove metterli perché gli orfanotrofi li rifiutavano. Non erano orfani, c'era la madre, ma il maschio di casa non voleva il piccolo tedesco, il figlio del nemico. E bisogna aprire un istituto opposto vicino a Venezia per raccogliere questi bambini che morivano di fame perché non c'era il latte. E allora le mamme andarono di nascosto dai mariti ad allattare quelli che erano pur sempre i loro figli che avevano tenuto in grembo per nove mesi. E 59 mamme riuscirono a convincere il marito a riprendersi il bambino sfidando i pregiudizi del tempo. Lo alleveremo come se fosse nostro. Ecco di cosa sono capaci. Le donne italiane. E perché soltanto nel 1946 le donne italiane poterono votare? Perché c'era stata la resistenza e le donne avevano dato un grande contributo alla riconquista della libertà e della democrazia. E nonostante questo per 30 anni la democrazia italiana credette di poter fare a meno delle donne. La prima donna ministra è Tina Anselmi 1976, ministra del lavoro, staffetta partigiana. E poi le donne a lungo sono state ministre soltanto della pubblica istruzione o della sanità, maestra o infermiere, i mestieri considerati da donna. Oggi la donna è entrata nella vita pubblica, oggi la donna prende decisione, oggi la donna esercita un potere. E io sono più tranquillo quando questo potere è esercitato dalle donne in generale, senza riferirmi a nessuno in particolare, perché vedete da sempre la donna si prende cura. Secondo gli antichi romani l'uomo fu creato dalla dea cura che prese il fango, lo plasmò, chiese a Giova di insufflargli l'anima e fece l'uomo. Poi nata una discussione per stabilire a chi appartenesse l'uomo e cura disse l'ho fatto io, è mio. Ma Giove disse no, gli ho dato l'anima, l'uomo è mio. La terra però disse è stato fatto col fango, il fango mi appartiene, l'uomo è mio. Alla fine si arrivò a un compromesso, quando l'uomo morirà il suo corpo tornerà alla terra, l'anima addio, ma finché vivrà l'uomo apparterà a una donna, alla dea cura. La donna donna la vita in tutti i modi in cui la vita può essere donata, concependo un figlio, dandolo alla luce, nutrendolo, prendendosene cura, una cura che ovviamente va condivisa tra uomini e donne, tra papà e mamma. Ma oggi la cura è una forma di potere. Oggi che abbiamo capito che la terra non è immortale, che la specie umana è fragile e tocca a noi, insieme, uomini e donne, prendercene cura. Le donne italiane hanno fatto in questi anni dei passi in avanti straordinari. In Italia fino al 1975 esisteva la potestà maritale. Picchiare la moglie non era reato, perché l'uomo doveva occuparsi della donna in quel modo lì. Fino al 1981 esisteva il delitto d'onore. Chi trovava non soltanto la moglie, ma anche la figlia, la sorella con un altro uomo e la uccideva, a volte non finiva neanche in carcere. Esisteva il matrimonio riparatore. Chi voleva una donna se la prendeva. Chi violentava una donna e la sposava vedeva estinto il reato. Fino a quando una giovane donna siciliana nel 1965, Franca Viola, rifiutò di sposare l'uomo che l'aveva violentata dicendo che l'onore lo perde chi fa certe cose e non chi le subisce. E sapete che è stato il primo a intuire l'idea della donna che salva il mondo, della donna che salva il genere umano? È stato lui, è stato Dante Leghiè. Dante, al tempo in cui si discuteva se una donna avesse o no l'anima, e tanti dicevano di no, Dante scrive che la specie umana si distingue da tutto ciò che è sulla terra grazie alla donna. È la donna che salva l'uomo e Beatrice che salva Dante. Anzi, quando Dante si smarrisce nella selva oscura, una catena di donne si mette in movimento per salvarlo. La Madonna va da Santa Lucia, Dante era molto devoto a Santa Lucia, protettrice della vista, cui attribuiva la guarigione di una malattia agli occhi che aveva avuto da ragazzo. Santa Lucia va da Beatrice che scende dal paradiso all'inferno, affida Dante a Virgilio che lo porta in fondo all'inferno, in cima alla montagna del purgatorio e lì Beatrice lo attende e insieme Dante e Beatrice volano attraverso i cieli del paradiso sin davanti al volto di Dio. Sapete qual è l'unico personaggio, a parte Beatrice, di tutta la divina commedia che si prende cura di Dante, che si preoccupa per lui, che pensa alla fatica che Dante ha fatto a scendere da vivo nell'inferno e a scalare da vivo la montagna del purgatorio? È una donna, una donna dal nome dolcissimo, Pia dei Tolomei. Di lei non sappiamo nulla, sappiamo soltanto i sei versi che le dedica Dante e per secoli pittori, poeti, scrittori hanno cercato di immaginare che viso avesse, che storia avesse Pia dei Tolomei. Pia vede Dante e gli dice, De, quando tu sarai tornato al mondo e riposato della lunga via, ricorditi di me che son la Pia, Siena mi fe, disfecimi Maremma, sono nata a Siena, sono morta nella Maremma, ma come è morta Pia dei Tolomei? Chi l'ha uccisa? Negli ultimi due versi la soluzione del giallo, Salsi, lo sa colui che in anellata pria di sposando Mavea con la sua gemma. Lo sa come sono morta? Mio marito, l'uomo che mi ha sposata, l'uomo che mi ha dato l'anello nuziale. Pia dei Tolomei è stata uccisa dal marito geloso, oggi diremmo è stata vittima di un femminicidio, che è la stessa sorte toccata all'altro grande personaggio femminile della divina commedia, Francesca. Francesca da Rimini, come sapete, in realtà era di Ravenna, siede la terra dove nata fui sulla marina, ove il po discende per aver pace con seguaci sui. Lei era la figlia del signore di Ravenna, viene data in sposa al figlio del signore di Rimini per suggellare la pace tra le due casate, le due città, ma finisce male. Gianciotto malatesta, il marito brutto, sciancato, ma ha un fratello bellissimo, Paolo. Paolo e Francesca si innamorano, ancora non conoscono i sentimenti gli uni dell'altro e ancora il tempo dei dubbiosi desiri, ma mentre leggono un romanzo cavalleresco che racconta la storia di un altro amore impossibile, quello tra l'Ancillotto e Ginevra, riconoscono finalmente i sentimenti l'uno dell'altro e quando leggono di l'Ancillotto, il migliore amico del re Artù che bacia la moglie del re Artù Ginevra, allora ecco che Paolo la bocca mi baciò tutto tremante. Sono versi che tutti conosciamo, ognuno comincia con la parola amore. Amor cal cor gentil ratto saprende, prese costui, Paolo, della bella persona che mi fu tolta e il modo ancora mi offende. Amor can nullo amato, mar perdona, mi prese del costui piacer si forte che, come vedi, ancora non mi abbandona. Amor condusse noi ad una morte, Cain attende che a vita ci spense. Amor che a nulla amato, mar perdona, sono versi immortali, senza tempo, sembrano scritti ieri e sono finiti anche nelle canzoni di Giovanotti, Serenata Rap, in quelle di Venditti, Ci vorrebbe un amico. Sono versi su cui si può discutere. Davvero l'amore non consente a nessuno che sia amato di non riamare a sua volta? Esistono anche gli amori non corrisposti, gli amori infelici e poi se l'amore ti costringe a riamare, allora dov'è il peccato? Qual è la colpa? Perché Paolo e Francesca sono all'inferno? Dante risponde a questa domanda nel Purgatorio dove spiega cos'è il mal amore, l'amore sbagliato, l'amore verso una persona che non ti merita e non ti vale e molto spesso, anche a noi uomini succede di innamorarsi di donne e donne sbagliate, ma molto spesso succede alla donna di incaponirsi, io ti salverò, con me sarà diverso e in questo modo a volte si innamorano di uomini che non le meritano e non le valgono. Ma non è meno importante l'altro verso, Caina tende che a vita ci spense. L'assassino di Paolo e Francesca, così come l'assassino di Piatolomei, finirà nella Caina, il posto più brutto di tutto l'inferno, dove sono puniti i traditori dei parenti, Caino appunto, e in fondo all'inferno non c'è il fuoco, il fuoco purifica le anime dei lussuriosi nel Purgatorio o scalda le anime dei beati nel Paradiso, in fondo all'inferno c'è il ghiaccio, simbolo dell'odio e della disperazione, ed è lì, secondo Dante, che vanno a finire quelli che fanno del male alle donne, ed è giusto che sia così, perché la violenza contro le donne non è un problema delle donne soltanto, è un problema di noi uomini. Siamo noi uomini che dobbiamo cambiare e fare cambiare i violenti, quelli che si considerano proprietari del corpo e dell'anima della donna, quelli che non sono disposti ad accettare un no o un basta. Siamo noi uomini che dobbiamo cambiare e fare cambiare quelli che ancora ragionano così. Vorrei andare avanti lungo, ma adesso arriva Fiorello e insomma dobbiamo cedere il posto a Fiorello d'Aldo Grasso. Voglio ancora raccontarvi, tra le tante storie possibili, una storia, perché adesso, dopo il programma di Berbero, ricomincia anche il mio programma di storia sulla Sette, che si chiama Una giornata particolare. E voglio raccontare, tra le altre, la giornata di Dante all'Inferno, perché Dante passa all'Inferno un solo giorno, in cui incontra Paolo e Francesca, in cui incontra Ulisse, in cui incontra il conto Ugolino. E voglio raccontare anche la giornata della partenza di Cristoforo Colombo per l'America. Io sono molto affascinato da Cristoforo Colombo. E non mi piace questa cosa che stanno buttando giù le sue statue. E attribuire a Colombo la responsabilità di tutto quello che è accaduto dopo il genocidio dagli indiani d'America, cose anche terribili, però Colombo non è andato in America per massacrare le persone. Anzi, non sapeva neanche che esistesse l'America. Colombo, grande genovese, ormai anche gli spagnoli ammettono che era genovese, ha quest'idea geniale di dire perché dobbiamo andare verso l'Oriente, non è necessario partire verso l'Oriente, si può andare verso l'Occidente, tanto la Terra è rotonda, cosa che ancora qualcuno oggi mette in dubbio, e andando verso l'Occidente arriveremo dall'altra parte. E tutti gli dicono, non è possibile, non ce la puoi fare. E' il bello che avevano ragione loro, e non era possibile, Colombo non ce la poteva fare, perché da Palos in Andalusia, dove è partito, facendo tutto il giro del mondo, la prima isola che trova è il Giappone, sono 22 mila chilometri, e con quei tre gusci di noce, la nina, la pinta, la Santa Maria, Colombo non ce l'avrebbe mai fatta, ma per sua fortuna in mezzo c'era l'America. E Colombo quindi, secondo me, è un eroe italiano, è come San Francesco, come Dante, come Garibaldi, sono i più grandi italiani mai esistiti. E secondo me c'è, anche nell'opera di Dante, un precedente di Cristoforo Colombo, che è Ulisse. Fateci caso, Ulisse dantesco fa esattamente la stessa rotta di Cristoforo Colombo. I poeti si sono sempre interrogati, ma Ulisse, che fine ha fatto? Omero non dice come è morto Ulisse. E allora ogni poeta, ma compreso anche Sab, ha compreso Joyce, è stato ispirato dalla figura di Ulisse. Dante ha la sua spiegazione su che fine abbia fatto Ulisse. Dante immagina che Ulisse non sia tornato a casa. Dante immagina che Ulisse neanche di fronte al pensiero del figlio, al pensiero del padre, al pensiero della moglie, abbia voluto tornare a casa, ma ha voluto proseguire il viaggio. Qualcuno dice, ma Dante non parla mai di sé. Ma secondo me quando parla di Ulisse Dante parla anche di sé. Cosa ci viene in mente quando pensiamo a un figlio? La dolcezza. A un padre anziano? La pietà, la compassione che abbiamo nei suoi confronti. Alla moglie, al marito, all'amore a lei, a lui dovuto. E quando Dante parla di Ulisse che invece si mette in viaggio, che trascura la famiglia, pensa a se stesso, perché anche Dante trascurò la sua famiglia, anche Dante aveva una moglie, anche Dante aveva quattro figli, Pietro, Jacopo, Giovanni e Antonia, che si fece suora con nome di Beatrice. Ma né dolcezza di figlio, né la pieta del vecchio padre, né il debito amore, lo qual dovea Penelope far lieta, vincere potere dentro me l'ardore, che io ebbi a divenire del mondo esperto e degli vizi umani e del valore, ma misi me per l'alto mare aperto. Siamo nella malabolgia dove sono puniti i consiglieri fraudolenti, quelli che usarono la loro intelligenza per fare del male agli altri. E ci sono tante fiammelle, Dante le paragona alle lucciole che si accendono nella campagna toscana dopo il tramonto, quando la mosca cede alla zanzara. Ci sono tantissime fiammelle, ma ce n'è una, una fiamma che si divide in due. E allora Dante chiede a Virgilio, ma com'è che quella fiamma è divisa in due? Sembra la pira di Eteocle e Polinice, che erano due fratelli che si sono ammazzati tra di loro in un duello e si odiavano talmente tanto che li hanno seppelliti insieme, ma la pira si divise in due, di quale fiamma di Eteocle e di quale fiamma da Polinice. E Virgilio risponde, lì dentro ci sono Ulisse e Diomede, che insieme fecero un sacco di scattiveria ai troiani, l'inganno del cavallo, il furto del palladio. E allora Dante dice a Virgilio, fatti raccontare la storia. E Virgilio dice, questi sono greci, sono un po' strano, ci parlo io. E Virgilio chiede a Ulisse, se ho meritato di voi quando nel mondo gli alti versi scrissi, nell'Eneide si parla anche dei greci, no? Ditemi che fine che hai fatto Ulisse. Ulisse, lo maggior corno della fiamma antica, cioè la punta più alta delle due punte, comincia a crollarsi mormorando, facendo un crepitio come la fiamma sotto il vento, no? E poi spostando la lingua qua e là come se fosse la lingua che parlasse, vesce la voce e dice, quando partì da Circe, che per più di un anno mi aveva fatto prigioniero, presso a Gaeta, prima che Enea la chiamasse così. Gaeta era il nome della nutrice di Enea, muore lì e Enea chiama quella località, tra Lazio e Campania, Gaeta. Ed è bellissimo pensare che due comandanti della guerra di Troia, Ulisse Vittorioso ed Enea sconfitto, perché i Romani sostengono di discendere da un eroe sconfitto, da Enea. Nel viaggio di ritorno si sfiorano quasi. Prima che Enea chiami così Gaeta, Ulisse non torna a casa, va verso Occidente, supera le Baleari, l'isola dei Sardi, va verso lo stretto di Gibilterra dove Ercole aveva messo i suoi riguardi, le sue colonne, a ciò che l'uomo più oltre non si metta. Come dire, qua finisce il mondo, non avventuratevi oltre. E allora a destra la Spagna, a sinistra il Marocco. Marocco che è stato colpito, Marrakesh, Agadir, posti stupendi, da un terremoto terribile. Rivolgiamo un pensiero solidale al popolo marocchino che è rappresentato qui da tanti giovani lavoratori. E dice Ulisse a Dante, alla destra mi lasciai Sibilia, Siviglia. Alla sinistra mi avevo lasciato Setta, Ceuta. E poi avanti, nel mare oceano, verso l'ignoto. E i compagni di Dante hanno paura, di Ulisse hanno paura. E Ulisse li arringa, gli dice, o frati, fratelli, che attraverso centomila pericoli siete arrivati all'Occidente, con questo piccolo legno, su questa piccola barca. Non negatevi l'esperienza di vedere cosa c'è oltre l'orizzonte, cosa c'è al di là del mare, nel mondo senza gente, dietro il sole. E dice queste parole immortali. Sono parole che Primo Levi, come racconta in Sequestro un uomo, racconta al lavapiatti di Auschwitz. Considerate la vostra semenza. Fatti non foste a vivere come bruti, ma perseguire virtute e canoscenza. Anche nel punto più basso della storia del genere umano, i campi di sterminio nazista, c'era un uomo, un italiano, Primo Levi, che diceva ai suoi compagni di prigionia «Noi non siamo questa cosa qua. Noi siamo quelli che siamo venuti al mondo per conoscere i vizi e il valore, per conseguire la virtù e la conoscenza». E allora i compagni di Ulisse esplodono in nuova azione, l'avrebbero seguito dappertutto, ed i remi fecero ali al folle volo. Sempre acquistando dal lato mancino, cioè andando sempre verso ovest e verso sinistra, tant'è che vanno nell'altro polo, nell'altro omisfero. Tutte le stelle già dell'altro polo vede alla notte la croce del sud. Dante immagina questo viaggio che ovviamente non ho mai potuto fare. E Ulisse di Dante arriva in vista di una montagna gigantesca, bruna per la distanza, tanto alta che così alta non avevo mai vista nessuna. è la montagna del purgatorio. Ma Dio non può permettere che Ulisse arrivi a svelare i segreti. Allora manda un turbo, una tempesta, che per tre volte fa girare la nave di Ulisse, la quarta volta la poppa va in su, la prua in giù. E il mare poi si chiude su Ulisse che fa naufragio. La storia di Ulisse finisce male perché per Dante, senza Dio, senza la fede cristiana, non c'è verità, non c'è salvezza. Anche se nel paradiso arriverà a immaginare che anche gli infedeli possano essere salvati. Ad esempio l'imperatore Traiano è in paradiso perché ha avuto pietà di una vecchietta, una vedova, che disse tu devi farmi giustizia, hanno ucciso il mio unico figlio. E Traiano sta andando in guerra e dice quando tornerò dalla guerra ti farò giustizia. E ma se non torni il mio successore ti darò giustizia. E allora perché tu vuoi lasciare a un altro il merito di quello che dovresti fare tu? Allora Traiano fa fermare il suo esercito, scende da cavallo, fa decapitare l'assassino. Per Dante la giustizia era quella e va nella guerra e grazie a quell'atto di pietà verso una vedova che aveva perso il figlio, Traiano è in paradiso. Non solo, ma Dante nel paradiso scrive che alla fine ci saranno tanti etiopi, tanti africani, tanti stranieri, tanti infedeli, più vicini a Cristo che non tanti cristiani che lo sono soltanto nel nome. Il fatto sta che l'Ulisse di Dante fa naufragio. Ma poco più di 150 anni dopo la morte di Dante, un altro grande italiano prenderà il viaggio sulla stessa rotta di Cristoforo Colombo, superando la Sardegna, la Corsica, la Spagna, il Marocco, lo stretto di Gibilterra, avanti nel mare oceano, sempre verso l'Occidente. Ogni sera il sole al tramonto gli ferirà gli occhi fino a quando Cristoforo Colombo arriverà in vista di una terra senza mai capire fino in fondo di aver scoperto un nuovo continente cui un altro grande italiano, Amerigo Vespucci, darà il proprio nome, America. E quindi come punizione finale, non soltanto non avete sentito Barbero, ma vi beccate anche il canto di Ulisse. Lo maggior corno della fiamma antica cominciò a crollarsi mormorando pur come quella cui il vento affatica. Indi la cima qua e là amenando come fosse la lingua che parlasse. Gitto voce di fuori e disse Quando mi dipartì da Circe che sottrasse me più di un anno là, presso a Gaeta prima che si Enea la nomasse né dolcezza di figlio né la pieta del vecchio padre né il debito amore lo qual dovea Penelo per far lieta vincer potero dentro me l'ardore che io ebbi a divenire del mondo esperto e degli vizi umani e del valore ma misi in me per l'alto mare aperto sol con un legno e con quella compagna picciola dalla quale non fui diserto l'un lito vidi e l'altro in fila Spagna fin nel Morocco e l'isola dei Sardi e le altre che quel mare intorno bagna io e i miei compagni eravamo vecchi e tardi quando venimmo a quella foce stretta dove Ercule fissò i suoi riguardi a ciò che l'uomo più oltre non si metta O frati, dissi io che per centomiglia perigli siete giunti all'Occidente di questa tanto piccola vigilia dei nostri sensi chiede il rimanente non vogliate negare l'esperienza di retro al sol del mondo senza gente considerate la vostra semenza fatti non foste vivere come bruti ma perseguire virtute e canoscenza gli miei compagni feci io sì aguti con questa orazione piccola al cammino che appena poscia li avrei ritenuti e volta nostra poppa del mattino dei re mi facemmo ali al folle volo sempre acquistando dal lato mancino tutte le stelle già dell'altro polo vedea la notte e il nostro tanto basso che non sorgea fuori dal marinsuolo cinque volte era acceso e tante casso cinque mesi era lo lume di sotto della luna quando siamo entrati all'alto passo e ci apparve una montagna bruna per la distanza e parve mi alta tanto quanto veduta non ne aveva alcuna noi ci allegrammo e tosto tornò in pianto che dalla nuova terra un turbo nacque e percosse le di legno il primo canto tre volte il fe girar con tutte l'acque alla quarta le var la poppa in suso e la prua aire in giù com'altro i piacque infin che il mar fu sovra noi e richiuso grazie Ado Katsuno un grande viaggio sulla nostra storia la nostra cultura la nostra identità grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti